giucas casella sto benissimo voglio tornare sull'isola sono un leone sto benissimo e voglio tornare sull'isola lunedì ho i risultati medici e se sto bene torno la queste le parole di giucas casella ex naufrago dell'isola dei famosi ospite del salotto pomeridiano verissimo condotto da silvia toffanini su canale 5 come ricorderete giucas casella ha dovuto lasciare il gioco per problemi di salute una decisione presa dai medici della produzione magnolia per consentirgli di curarsi in italia queste le sue parole ho preso una brutta botta in barca e mi sono rotto una costola ma mi dispiaceva troppo abbandonare il reality così ho nascosto per un po il dolore comunque se mi diranno che sto bene e la costola si è calcificata io torno in honduras un bella notizia per giucas in un'isola segnata dalle polemiche il canna gate infatti ha dominato le ultime puntate con una eva anger che ha accusato francesco monte di aver fumato marijuana l'extronista di uomini e donne che ha abbandonato il gioco e che non è più andato in studio ha sempre negato ogni addebito giucas infine nel corso dell'intervista a verissimo ha scritto e sigillato in una busta il nome del naufrago che secondo lui vincerà la busta verrà aperta nella puntata speciale di verissimo dedicata interamente a questa edizione delle reality di canale 5